Sospeso nella serata di ieri il Consiglio Comunale di Cedraro per la spaccatura all'interno della minoranza di centrodestra. I nodi sono venuti al pettine mentre la Civica Sise stava decidendo sulle composizioni delle due commissioni consiglieri permanenti che si occuperanno dei vari settori a fianco agli assessori e ai consiglieri con delega. Durante la nomina dei vari componenti si è accesa la miccia tra Maurizio Iozzi, Vito Cagliero e Tommaso Cesario. Quest'ultimo in rappresentanza del Partito Fratelli d'Italia non ha gradito il voltafaccia dei pidiellini che avrebbero preferito inserire nelle commissioni Fiorella-Bernardo di Sinistra Ecologia e Libertà. Un vero e proprio colpo di mano ha commentato il consigliere Tommaso Cesario. Gli accordi erano diversi e cioè dai quattro posti a disposizione ciascun gruppo di opposizione avrebbe avuto un rappresentante nelle commissioni. Invece il Partito della Libertà ha tenuto per sé due posti preferendo a noi, di Fratelli d'Italia, costra del Pdl, un componente di estrema sinistra. La seduta dunque si è animata con lo scontro tra Cesario, Iozzi e Cagliero che per il momento ha preferito trincerarsi dietro un no comment. Prepo Cagliero ha poi chiesto la sospensione del punto sulle composizioni delle commissioni e del consiglio. Scivolati senza troppi intoppi gli altri due argomenti di discussione. Sul lavoro, tema chiesto dal gruppo PRC-Sel, la Giunta Ieta ha presentato i vari progetti in atto per l'occupazione, anche se in questo momento di crisi nazionale poco un'amministrazione comunale può fare. Si discuterà poi nel merito quando le commissioni permanenti saranno operative. Anche il punto sul lungomare di Cetraro che ha subito gravi danni durante le mareggiate di questo inverno è stato rinviato al prossimo Consiglio Comunale, dal momento che le minoranze hanno chiesto di poter consultare la documentazione per capire di chi sono le responsabilità e i motivi che hanno portato all'attuale stato di degrado. Grazie.